Presso il via all'Istituto Merendino di Via Torrente Forno a Capodorlando, il corso per assistenti all'autonomia e la comunicazione per disabili organizzato dall'Ente di Formazione Suprema. Il corso si articola in 900 ore, di cui 720 di lezioni teoriche in aula e 180 ore di tirocinio presso istituti scolastici. Al termine del corso, in seguito al superamento degli esami finali, gli allievi conseguiranno un certificato di qualifica professionale che dà ampie opportunità di inserimento lavorativo presso centri di riabilitazione, asplocali, istituti scolastici e strutture educative, oltre a consentire di partecipare ai concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. È ancora possibile iscriversi per gli ultimi posti disponibili. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è una figura professionale volta a un'assistenza ad personam specialistica e qualificata, un tutor educativo che in sinergia con il personale previsto dalla normativa vigente, quindi con l'insegnante di sostegno e l'insegnante curriculare, accompagna il bambino per tutte quelle attività che riguardano lo scambio comunicativo e l'integrazione nel gruppo classe attraverso strategie, modelli di comunicazione e strumenti che portano il disabile all'autonomia. Nasce principalmente questo corso dai genitori che hanno fatto richiesta, dai medici dell'ASP che in collaborazione con loro proponendo questo corso si sono messi a disposizione. In questa zona la figura professionale ASACOM non c'è, manca, anche se la legge 104 prevede appunto l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Quindi questa figura oltre a lavorare presso gli istituti scolastici potrebbero dopo scuola lavorare presso i centri di riabilitazione. Gli allievi attualmente sono 19, la classe è composta da 19 allievi, quindi c'è ancora disponibilità per qualche posto, massimo 25 allievi.